Ho chiesto una cosa a bilancia, ho chiesto se sono mancate in questo periodo in cui non ho potuto far sedutte medianiche, guardate come risponde anche il K2. E la candela, avete sentito? E mi ha detto di sì, assolutamente sì, 4 di bastone. Quindi cosa vuol dire? Che io gli sono un grande aiuto, perché sono anche una praticante di magia. E poi la parte sentimentale, nel senso che lui ormai è affezionato a me anche per altre cose di vita precedente, ma di cui io non posso parlarvi. Comunque, guardate, è sufficiente proprio mostrarvi questo. Io vi auguro buone giornate, chiudo qui la seduta oggi, al prossimo faremo una stesura sui caso Piarenti.